Ciao a tutti, come capire se l'amore è finito? Prima di affrontare questo tema iscriviti al canale, seguimi sulla pagina di Instagram Massimo Termasco e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto i link in descrizione. Allora, una delle cose che dovremmo imparare a fare è capire se l'amore è finito, capire se non c'è più benzina sul fuoco. Però questo richiede una cosa che dobbiamo tenere presente. Quella che poi la domanda è che fare dopo? Perché magari con questa persona c'è fatto dei figli, magari c'è il mutuo, oppure magari ci sono delle abitudini consolidate, oppure magari delle paure, paura dell'abbandono affettivo, paura di essere, paura di essere, diciamo, di rimanere da solo, della solitudine, insomma, sono tutta una serie di cose che talvolta ti spingono a non accertare se l'amore è finito o meno. Però ci sono dei segnali, diciamo, inequivocabili, che ti dicono se l'amore è finito. Il primo è che diminuisce il piacere, la voglia di baciare, anzi, ciò che ti univa ti dividerà. Il bacio diventa quasi un qualcosa di estremamente negativo, diventa un qualcosa che non ti piace più, diventa una sorta di, diciamo, negatività, ti può dare il conate di vomito. E quindi il bacio profondo, dove si trasferiscono emozioni molto profonde, perché è collegato al gusto e all'olfatto, che sono i nostri sensi piattavici, i nostri sensi primordiali, allora si sostituisce questo con i bacini a stampo. Poi, un'altra cosa, non puoi più piacere a stare con questa persona, non ti diverti più. Anzi, quando magari capita l'occasione che la persona non c'è e che deve andare via, per te è una benedizione, sei contento. Senti attrazione verso altre persone e quindi hai forte l'esigenza di trasgredire. Questo è un altro segnale molto forte. In più, guardando te stesso o guardando l'altra persona, noti tutta una serie di segnali di rifiuto che emetti tu o che emette l'altra persona. Questi segnali di rifiuto sono raschiamenti, grattamenti, toccamenti di naso, andare indietro, insomma, tutta una serie non verbale di segnali di rifiuto. È evidente che non sono di buon auspicio. Se li vedi su di te, vuol dire che l'amore per te è finito. Se li vedi sull'altro, significa che l'amore per l'altro o l'altro è finito. E poi, diciamo, c'è anche la mancanza, ovviamente, di attrazione sia fisica sia di coccole affettiva. Ecco, questi sono tutti i segnali che ti dicono che l'amore è finito. A questo punto devi prendere una decisione. O fai finta di niente o decidi qualcosa. Aspetta solo a te. Per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.